Non si può parlare di cambiamenti climatici senza parlare più in generale di inquinamento. La prima causa dei cambiamenti climatici sono le emissioni di gas a serra. Le emissioni di gas a serra di solito avvengono anche in presenza di inquinanti. Il cambiamento climatico aumenta l'inquinamento e l'inquinamento aumenta il cambiamento climatico. E specificatamente gli effetti si vedono dappertutto, dalle zone costiere, allo scioglimento dei ghiacciai, al peggioramento della qualità dell'aria, ma perfino a incidere sulla flora e sulla fauna, come conseguenze secondarie nel nord Italia l'aumento delle inondazioni, l'aumento delle frane. Il cambiamento climatico non è un problema del futuro, è un problema dell'oggi.